buongiorno ragazzi oggi farò questo tutorial su come abbonarsi a uno streamer al vostro streamer favorito con amazon prime che è gratuito ormai lo sanno pure ai polli che ha praticamente voi potete gratis sostenere il vostro streamer preferito e molti non lo fanno è una cosa che io stesso non facevo non vi sicuramente non potrò lesinare accuse nei vostri confronti però fa pensare questa cosa che non viene fatto forse non viene pubblicizzato abbastanza forse non c'è fidelizzazione ma andiamo avanti insomma queste cose magari verranno affrontate in seguito per parlare un po di marketing di strategie magari ci faccio un video però sta di fatto insomma che noi abbiamo la possibilità di fare questo abbonamento è nulla di nuovo fino adesso la cosa nuova magari fosse già questa pagina e praticamente appare quando all'intanto io vi vi mostro su twitch per esempio questa pagina andiamo sul mio twitch prendiamo questo canale e praticamente andiamo su che ne so mister mac rubic che è un mio diciamo un canale che io seguo e praticamente qua possiamo vedere che possiamo regalare l'abbonamento ok oppure perché io già sono abbonato a lui ok allora visto che io sono abbonato non compare però magari prima compariva qua c'è tipo abbonamento a prime e appariva un link cioè praticamente un testo con il sottolineato voi ci cliccate è arrivata a finire in questa pagina la landing page di prime gaming ok cosa dovete fare adesso dovete praticamente andando a fare l'accesso a prime e poi fare gestisci l'account di twitch vi si apre siccome io non già ce l'ho collegato voi dovete collegare l'account vi si apre l'opzione e avete praticamente detto a amazon che voi avete la ma a twitch scusatemi e voi avete l'amazon prime andiamo indietro nella pagina nella home page e praticamente voi tornate indietro e fate abbonati magari non lo fa subito magari aggiornate voi così avete la certezza perché vi dico che io l'ho fatto dopo diversi giorni questa cosa ho detto ah guarda si può fare perché stavo uscendo pazzo perché pensavo che l'abbonamento si dovesse fare da questo sito di prime gaming invece no lo fate andando praticamente sul canale fate abbonati e poi abbonati con prime e poi quando mi appare la pagina per abbonarvi c'è praticamente abbonati gratis come an amazon prime il quadratino e vi abbonate semplice se avete problemi iscrivetevi nei commenti che è un prezzo gratis vi rispondo ok ciao